Ehi, ciao scappatoni di casa! Ehi, ciao! Allora, mi hanno mandato questo, che è, ombre a parte, il Tech Zone Audio Stellar X2. Ciao, voglio ricordarti che da venerdì 12 marzo 2021 è disponibile sulla piattaforma Improve Your Mix. Un mio videocorso con ben due brani mixati da zero, alla fine fino al mastering e più un sacco di altri trucchi per cercare di elevare un po' il suono del tuo home studio, per cercare di tendere a quello che può essere un suono professionale. Sulla piattaforma Improve Your Mix poi trovi anche tantissimi altri corsi di professionisti molto più famosi di me con i dischi di platino sui muri e non il piramidale. Costa 89 euro e se vuoi condensare 10 anni del mio canale YouTube in un solo corso è quello giusto. Improve Your Mix Mi è stato mandato, questo è proprio un regalo, non l'ho comprato da Amazon con i buoni che provengono appunto dai miei referral ma questo qui me l'hanno proprio mandato da testare e nella mail dicevano siamo aperti a qualsiasi tipo di criticismo perché vogliamo capire se siamo sulla giusta direzione. Questa è la seconda versione dello Stellar e scusate l'audio è un po' genchi ma sto usando un mezzo fucile. Questo qui è un microfono che sta sui 300 euro, 320, dipende un pochino un po' dai periodi. lo potete trovare su Amazon, quindi è molto facile da reperire e volevo con voi avere un pochino una first impression oh beh diciamo che partiamo bene, partiamo benissimo, guardate la bella confezione di questo Stellar X2 Transparent Sound Large Diagram Studio Condenser Allora andiamo a vedere quindi all'interno della pratica scatola molto bella tra l'altro non ho un po' di luce, fa niente se c'è un pochino meno di luce no? Allora abbiamo all'interno della confezione il pop filter lo shock mount che possiamo togliere dalla plastichina shock mount normale, solita cinesata onestamente e abbiamo poi lo Stellar questo microfono non vuole essere una simulazione, un'emulazione di un Neumann o qualcosa del genere molti altri reviewer lo comparano alla serie dell'audiotecnica ad esempio il 2020 che però sono 80-90 euro questo è 300, quindi mi aspetto un suono diciamo queste sono le aspettative un suono molto clean, un suono molto diciamo realistico e c'è anche una... oh, allora c'è una scheda di test dove hanno fatto praticamente dei test prima di spedirlo questo test è stato fatto l'11... è stato fatto un anno fa l'11 marzo 2020 ed è firmato bra, firma vera, non sembra neanche stampato c'è attaccato un'etichetta con il codice del microfono very nice, bel tocco dove testano fanno una burn-in di 14 ore guardano il voltaggio della polarizzazione fanno un frequency sweep, fanno la sensitivity noise floor e una visual inspection per vedere che funzioni tutto praticamente è senza trasformatore ed è FET ok? ha un JFET quindi... e la capsula è una K67 quindi è... diciamo che è basato su quello che può essere un U87 un U67 perché è lo stesso tipo di dimensione di capsula frequency range va dai 20 Hz ai 18 kHz la sensibilità è di meno 31 dB e c'è un massimo SPL da 130 dB quindi non... non è proprio un microfono che metterei davanti a un kick di una batteria self noise 13 dB a weighted e possiamo vedere la frequency response che è very very piatta c'è un piccolo dip a 6K che mi preoccupa un po' potrebbe dare una sensazione un pochino di... muffle piccolo boost a 10 kHz e poi scende il roll off però diciamo che questo boost dal K in su dovrebbe darmi appunto sulla voce una roba un pochino più... un pochino di presenza ok, mi preoccupa un po' quel dip a 6K vediamo se dopo lo sentiamo come al solito proverò a smontarlo per vedere un po' un po' come è il circuito dentro c'è la solita basettina anche per vedere un po' la qualità di costruzione di questo microfono quindi abbiamo la capsula, abbiamo lo Stellar X2 Rev-C componentistica diciamo niente di eccezionale sono solite resistenze e condensatori c'è una regolazione, c'è un trim di regolazione sull'RV1 che sarebbe interessante capire cos'è però la costruzione è fatta bene le saldature sono fatte bene il ground è saldato con lo shield sull'XLR ma niente da segnalare mi sembra comunque fatto su bene sono assemblati a mano cioè l'idea di questi microfoni mi sembra di capire è che siano comunque prodotti vediamo se c'è un made in made in dove? dove li fanno? loro sono californiani quindi praticamente è prodotto in Cina ma è testato in California quindi loro cosa stanno facendo? stanno facendo un trade di questo tipo vanno a produrli in Cina dove costa ovviamente meno ma poi li testano nella loro facility prima di inviarli questo potrebbe diciamo essere già un buon segno di qualità quando le ciance andrei ad attaccarlo andrei a provarlo in studio diciamo che appunto il suo benchmark è questo oggi potrei rubare potrei rubare un U87 dalla radio per capire un attimo come si compara verso un U87 e lo proviamo con altri microfoni quindi oggi devo Francesco ricordati di rubare un U87 in radio tanto non li stiamo usando al momento stiamo usando gli SM7 niente andiamolo a sentire e allora eccoci a provare appunto questo TZ Audio Products Stellar X2 lo andiamo a comprare qui in studio con l'Aston e con un NT2 che sono un po' i suoi rivali per diciamo fascia di prezzo e voglio proprio andare a sentirlo così com'è quindi allora diamogli un 30db anche meno 20db molto sensibile mi serve pochissimo gain per andare praticamente a picchiare i meno 15 e i meno 12 quindi lo attivo e mi tolgo la mia voce dalla cuffia quindi ora mi sentite dallo Stellar X2 completamente flat senza niente rumore di fondo non ne sento e andrei più che altro a vedere come si comporta con molta compressione come al solito quindi metterò un Orban quindi questo qui è diciamo ipercompresso mettiamoci anche l'MB Process andiamo proprio a schiacciare tantissimo questo microfono in modo da sentirlo proprio al limite e la mia preoccupazione sull'X2 è questa è un filo nasale può andare molto bene per alcune voci sulla mia sentite che è un filo a onky attacchiamo un Aston Origin per vedere il rumore di fondo è molto bello il colore è molto bello attacchiamo l'Aston Origin ci mette un pochino ad accendersi stesso identico pre Aston Origin sentite che ha una forma un pochino più a V e quindi sento meno un pochino la nasalità della mia voce che è molto nasale purtroppo questo qui è il suono che vi dà la Aston Origin che è lì come prezzo torno di nuovo al Stellar X2 e lo andiamo appunto a sentire sentite una voce più presente un pochino più mid push praticamente molto bello e meno rumori di fondo molto interessante sì c'è un filo più di rumori sentite com'è più morbido l'Origin e qui è proprio una questione di gusto se non vi piace che l'Origin sia così diciamo scavato lo Stellar vi dà una risposta un pochino più presente che vi aiuta ad uscire un pochino più nel mix quindi se avete difficoltà ad esempio a far uscire i vostri vocal magari che sono rap, trap sopra un beat molto denso lo Stellar vi dà sicuramente una mano attacchiamoci una cosa molto più cheap come un T-Bone SC400 SC400 eccolo qua è meno sensibile sentite che sta prendendo meno il rumore della mia stanza ma è anche molto meno presente cioè sento che sicuramente si è abbassato quello che può essere la percezione anche un pochino dell'ambiente in cui sto registrando molto più raccolto ok che cos'altro ho qua in studio da provare al volo? attacchiamoci un Rode NT2 quindi torno allo Stellar che si accende subito sentite belle le basse mi stanno piacendo molto e le S non sono così tanto cattive non ho niente non ho The S se non appunto questo T-Meo Stereo Tool e l'MB Process Multibanda attacchiamo un NT2 questo qui è un Rode NT2 sentite che è meno presente ma un pochino più sensibile al riverbero sento un pochino più di riverbero che arriva dalle scale e diciamo comparabile ma mi piace sapete cos'è? sta iniziando a piacermi quel push che mi dà le NT2 molto molto presente è questo è quello che vi dicevo all'inizio cioè mi ricorda molto quella presenza che hanno gli audio tecnica come può essere il 20-20 o il 40-40 ancora meglio attacchiamoci un Behringer giusto per avere l'idea di quello che invece può essere il suono di un condensatore handheld e sentite molto meno alte frequenze cos'altro vi posso attaccare? vabbè il classico BM2 il classico BM800 torna lo Stellar torna sul game Stellar molto molto presente molto molto pulito bello mi piace questo qui invece è il BM800 sentite molto più medioso con un rumore di fondo molto più accentuato non so cos'altro ho qua da provare cosa trovo in giro in questi cassetti li ho provati tutti ma sapete cosa facciamo? vi porto in radio e lo proviamo con la catena che abbiamo in radio al posto di un U87 quando torno al game mi sta piacendo molto bello cioè nonostante sia un pochino nasale vediamo com'è la repulsione del suono da lì fianco sentite che usato di fianco esce fuori un pochino di più questa nasalità è proprio questa quella che sento e da dietro c'è una buona c'è una buona diciamo retenzione rispetto a quella che può essere sentite mentre di fianco il è molto più scuro l'NT2 e da dietro però è un pochino più sensibile quindi ti aiuta meno in una stanza poco insonorizzata bello la risposta anche in frequenza la risposta fuori pattern è molto interessante cosa possiamo provare? un po' di chitarra? ah sì c'è una cosa che volevo provare metto praticamente un playlist rider ok su questa traccia e voglio mettere un analizzatore spectrum analyzer con un FFT molto lenta giusto per capire su alcuni test che voglio fare con il telefonino generatore ok vi spiego cosa voglio fare io voglio generare un tono una sinusoide vedete per vedere le armoniche e questo qui è l'NT2 vediamo un pochino più di armoniche da parte dell'Origin vediamo lo Stellar molte più armoniche bello molto interessante figa sta roba perché questo perché tutte queste armoniche appunto ti aiutano ad avere un suono che buca di più il mix che è quello che mi sta dando l'idea di questo audio Stellar molto interessante sentite anche dietro come protegge bene proviamo un secondo una chitarra acustica anche le plosive nonostante sia completamente scoperto non sono male bello allora cosa proviamo proviamo una corda pizzicata di violino no mi si è spaccato il ponticello maledizione vediamo invece l'Origin più rumore di fondo è un suono molto meno presente un NT2 invece questo è un NT2 è più bello è più bello lo Stella ah bello molto punch è un po' la critica che gli facevano a questo microfono cioè che fosse troppo eh troppo punch e invece mi piace un sacco andiamolo a sentire in un ambiente non insonorizzato rispetto agli altri cavo XLR cavo XLR ce l'avrò qui da qualche parte altro cavo XLR eh borsa degli XLR quindi andrò direttamente dentro eh questa fantastica videocamera che ha l'ingresso XLR ok allora questo qui è lo Stellar eh X2 usato a una mezza spanna dalla mia bocca all'interno di una stanza non insonorizzata con comunque sentite un po' di eh di riverbero insomma un po' di un po' di classico riverbero di stanza andiamo a sentirlo rispetto a un Origin eh questo qui è l'Aston Origin invece in un ambiente non insonorizzato vediamo che la dimensione della capsula è un filo più no sono grandi uguali anzi è un filo più grande quella della Stella era una capsula più grossa mentre no penso la più grossa sia quella della NT2 o sono uguali attacchiamo la NT2 questo è il RAW da NT2 eh molto più duro da preamplificare è un pochino più basso il livello rispetto agli altri microfoni ma potete ora sentire appunto quale sia un po' la sua risposta con in una diciamo scheda audio abbastanza basica come può essere il preamplificatore eh di una videocamera con l'XLR andiamo ad attaccare mentre il gelato l'SB76A eh eh condensatore questo obbligatoriamente sarà quello che suonerà meglio anche perché sono più vicino certo che se mi allontano ho molto meno gain e immagino la stessa quantità di riflessioni eh torniamo sullo Stellar e torniamo sullo Stellar che appunto mi dà questo suono in un ambiente non insonorizzato si sentirà probabilmente il motore del del frigo chi lo sa quindi mi è piaciuto questo ho troppe cose ho troppe cose in mano quindi mi è piaciuto questo microfono assolutamente sì consigliatissimo lancio della videocamera consigliatissimo per tutti quei generi musicali che hanno bisogno di un po' di buccare il mix quindi ad esempio per i voiceover mi piace se è un voiceover che ne so di un trailer di uno spot se dovete appunto prevaricare sopra una base magari molto densa per magari andare a per andare appunto ad avere un cantato magari rock che deve andare sopra le chitarre elettriche super consigliato appunto grazie alle armoniche che abbiamo visto generare un pochino più alte rispetto i suoi competitor e questo suono un pochino più mid forward bella la risposta delle basse occhio che potrebbe essere un pochino overwhelming se avete ad esempio un grosso amplificatore di chitarra non mi sento di consigliare uno stellar perché sento che tende a boostare un po' le basse potrebbe crearvi un po' di mud che poi dovete poi mix andare a togliere un bellissimo prodotto il price point è un filo alto perché capisco che 300 euro possano essere tanti in home studio con così tante alternative è un è un 20-20 che suona più presente è un 40-40 con un pochino più di saturazione e quindi magari non mi sento di consigliarlo se volete proprio una ripresa super super analitica ad esempio che ne so xilofoni non lo userei strumenti a fiato come può essere ad esempio un flauto traverso magari è un pochino troppo un THD un pochino troppo alto per questo tipo di applicazioni mi piacerebbe sentirlo non ne ho la possibilità come room microphone ad esempio un monomic room fatto con questo con questo punch nelle medie potrebbe essere molto molto interessante o anche come overhead dato che non sento delle sibilanti particolarmente acide e quindi diciamo che questa configurazione di capsula similu87 più un corpo con un'amplificazione che può essere come quella di un TLM103 si rivela comunque sempre un'ottima combinazione è sicuramente meglio di un TLM103 non c'è ombra di dubbio andiamolo a sentire appunto in radio vi porto con me oggi allora siamo qui con il DJ Stay che usa tutti i giorni un Neumann U87 e gli abbiamo portato uno Stellar X2 da provare che cosa ne pensi? ma sinceramente sono molto simili lo Stellar te lo faccio subito sentire all'opera ecco la registrazione fatta con lo Stellar questa settimana con della Santa Automobili Giubiasco che vi presenta la nuova Hyundai i30N e invece questo è il Neumann questa settimana con della Santa Automobili Giubiasco che vi presenta la nuova Hyundai i30N la differenza tecnica te la potrebbe spiegare Francesco Bonalume che è tecnicamente molto più preparato del sottoscritto però a me sembrano abbastanza simili non noto molte differenze solo che questo è 300 euro e quello sono 2000 sì fortunatamente non l'ho pagato io quindi tecnicamente va bene così grande Steve guarda te se si può tratta così no è difficile boia da tenere così questo sta registrando sì allora una delle cose strane diciamo di differenza tra l'U87 e questo Stellar più che nel suono sono da cercare nel gain cioè in questo momento ad esempio sto comprimendo 3 e 6 dB ogni tanto su questo Neumann se attacco lo Stellar praticamente con lo stesso preamplificatore sono tra i 6 e i 9 di gain reduction quindi ha proprio più gain lui di proprio di default e e sto registrando praticamente attraverso questo Soundcraft allora praticamente la chain è questa è un DBX286 che viene usato per mettere un high pass comprimere mettere un filo di LF di HF detail e un po' di gate e passo anche dalle Q di questo Soundcraft non sono lo so che non sono robe costosissime ma per fare radio questa roba basta e avanza per noi e la differenza è un po' questa quindi così c'è ah sì e quindi è un po' è un po' così la non trovo una differenza diciamo così estrema però trovo un po' questa differenza di gain e questo appunto sempre cosa di presenza 300 euro contro 2000 una cosa del genere li state sentendo in questo momento attraverso la catena classica che usiamo per i registrati so che non è un suono fantastico ma è una specie di suono premasticato che poi in post produzione andiamo a sistemare prima di mandare in onda poi tanto c'è anche l'Orban non c'è bisogno di un suono super super a posto anche perché poi tanto anche se lo metto a posto tempo 5 minuti qualcuno spampina le robe e mi rovina tutto quindi ci penso poi mi piace voto 10 grazie a tutti